Raimondo Todaro è tornato, durante una recente intervista, sul suo addio a Ballando con le stelle. La sua verità su Millie Carlucci. Uno dei divorzi televisivi più discussi di quest'ultimo periodo, quello tra Raimondo Todaro e Millie Carlucci. Il figlio di Ballando con le stelle infatti, durante l'estate, ha deciso di prendere nuove strade, ma il modo in cui è arrivato l'annuncio non è mai andato giù alla conduttrice. Anche se l'amore professionale tra i due rimane, così come la grandissima stima reciproca, forse non tutti i sassolini dalla scarpa sono stati rimossi. Raimondo infatti, durante una recente intervista al settimanale Oggi, è tornato sulla questione del suo addio, arrivato via social e mai digerito forse dalla Carlucci. Andiamo a scoprire la verità dello storico coreografo, le sue parole su Millie e su Maria De Filippi. Non mi è piaciuto che abbia tentato di mettermi in cattiva luce. Punto. Lo ha detto al settimanale Oggi, in una recente intervista, il ballerino di Ballando con le stelle che con tutta probabilità approderà ad amici la prossima stagione. Il riferimento è al post della Carlucci, che su Twitter ha espresso una volta appreso l'addio di Raimondo tutto il suo disappunto. Se il coreografo ha sempre confermato di avere avuto da tempo la volontà di lasciare ballando, la Carlucci avrebbe forse preferito un confronto di persona. Post social a parte. La stima tra i due è immensa. E Todaro ha così parlato dell'ex collega. Millie non ha difetti. Quest'anno ci sono state cose che non mi sono andate bene. Resta l'amicizia. A prescindere. Su Maria De Filippi ha invece così commentato. E, un fenomeno, mi è stata vicina mentre mi stavo separando. Grazie.